ventosa questi sono orate no lo so, un buon rato dici, grazie ma quanto questa? quella 30 che sono, orate? sì e questi più piccoli? se c'avevo una ghiacciaia non la compravo questo è un periodo ci fanno un sacco di orate adesso è un periodo eh, pure sul tirreno grazie 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 oh quattro 89 la orate cos'è? i pesci? quelle grosse si ha orate son orate? sì le grosse wow Jupiter un corpo tre pezzi insomma rimasti proprio ah Anne Grazie a tutti.